Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me. Tanti piagi sopra il mondo, lei sta bene, dove sta? Cosa centro io con quella gente e con lei? L'autostrada scorre via. Voglio andare a casa mia. Cosa centro io con quella donna non so. Rotolando verso il mondo, respirando. L'aria è mia, già in periferia, nella mia grande città. Con il vestito aperto e le labbra chiuse, io l'ho guardata e vista per quel che è. Quante la notte dentro quella stanza, come ne ho parte, posso parte senza. Quante la notte dentro? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.